Il puttato deve dichiararsi colpevole Infermità mentale Colpevole per l'attenuante Cosa? Vabbè guarda Cosa ha fatto? In chat la rapitrice ha scritto No Pucci vinci per me Facci una triste Mi dissocio da questo caso Mi dissocio dall'ex Che altro devo fare? Non guardiamo più il processo Basta I Pucci Pucci cosa stai facendo? Pucci si è andato alla fuga Pucci si è andato alla macchia Che schifo Dove c'è che Pucci? Pucci è evaso Ha abbandonato la sede del processo Pucci delle balle Concludiamo il processo in contumaccia signori Col Pucci è evaso e la rapitrice è vasa Sicuramente è andato verso la rapitrice per riabbracciarla Che schifo Quindi Signori e signori della corte E signori spettatori Venite venite Abbiamo purtroppo raggiunto Il verdetto Mi sembra ovvio a questo punto Che Alex è colpevole di aver fatto entrare la rapitrice Tantissimo Quanta medicatura E probabilmente anche di averla aiutata Ma di brutto l'aiutata Se no non scapperebbe Sicuramente aiutata a evadere Questo è sicuro Non sappiamo se è aiutata a griffare la zigurat Questo sicuramente io non penso che Alex arriverebbe a fare questa cosa È il motivo per il quale ancora non è stato fatto Perché Alex è... Musica